Con 61 autovetture ogni 100 abitanti, l'Italia è tra i paesi d'Europa con la più alta concentrazione di auto pro capite per un totale di 37 milioni di auto circolanti. Un parco auto che invecchia e che richiede sempre maggiori cure di manutenzione, impegnando le 85.000 officine distribuite su tutto il territorio nazionale, che gestiscono un volume d'affari pari a 26,9 miliardi di euro. L'autoriparatore costruisce il proprio successo sulla fiducia e sulla professionalità che riesce a trasmettere alla propria clientela, che ha sempre meno tempo a disposizione e richiede il massimo del servizio al minor costo. Ora, con Open2Garage, la soluzione studiata a su misura per il riparatore indipendente, sarà possibile gestire tutte le fasi di manutenzione, dalla gestione del cliente alla ricerca e acquisto dei ricambi, partendo dal numero di targa del veicolo. Il tutto con la massima precisione e con l'ottimizzazione di tempi e costi. La ricerca dei ricambi è spesso un'attività onerosa che richiede tempo e conoscenze. Se si potessero quantificare le ore passate al telefono, il margine di errore a volte elevato, le lunghe ed estenuanti attese dalla ricambista, ci si renderebbe conto dei costi non ripagati, che vanno a togliere tempo prezioso all'attività di riparazione. Oggi tutto questo può diventare un ricordo, perché con Open2Garage è possibile identificare con precisione i ricambi per tagliandi o altri interventi in tre passaggi. Inserendo la targa e i chilometri effettuati, scegliendo la funzione Tagliando, selezionando i ricambi dal portale. Accedere al servizio è semplice. Basta collegarsi al sito web opentogarage.com e loggarsi. Con Open2Garage, fare un preventivo preciso e professionale al cliente è diventato più semplice. Apri una nuova scheda lavori e digita la targa. Con un clic, l'auto è identificata grazie all'interrogazione diretta alla banca dati della motorizzazione civile. Non resta che selezionare la tipologia di riparazione da effettuare, un tagliando ad esempio, specificando i chilometri o i mesi di riferimento. Verrà visualizzata la lista dei ricambi con codici originali comparati con gli equivalenti Open Parts quando presenti, completa di prezzi e tempari ufficiali. Sarà possibile completare l'intervento con altri ricambi, selezionandoli direttamente dalle grafiche dinamiche o partendo dalle categorie prodotti per arrivare a qualsiasi componente del veicolo, che una volta selezionato verrà incluso nella lista iniziale. A supporto di ogni intervento è inoltre disponibile la banca dati di Autodata, autorevole riferimento tecnico della riparazione, che fornisce tutte le informazioni del veicolo e guida qualsiasi tipo di manutenzione con schede tecniche dettagliate. Con Open2Garage garantirai una riparazione professionale che ti darà modo di consegnare al tuo cliente un preventivo dettagliato, che certifica l'intervento secondo le specifiche della casa automobilistica nel rispetto delle norme sulla garanzia della riparazione. Effettua quindi la richiesta di preventivo al tuo ricambista. Verrà inviata la lista dei ricambi da te selezionati con l'indicazione dei prezzi di listino e la quantità. Il tuo ricambista riceverà la richiesta di preventivo in una mail dettagliata con la lista dei ricambi da te selezionati e la completerà, indicando lo sconto a te riservato o il prezzo netto per ogni articolo, integrandola con delle note se necessarie. Riceverai velocemente la risposta del preventivo aggiornato con le migliori condizioni. Una volta confermato il preventivo, il tuo ricambista si occuperà senza rischio di errori della preparazione della merce, che ti verrà recapitata in tempi brevi per eseguire l'intervento programmato. La vasta gamma di ricambi, la conformità alla normativa europea 1400 del 2002, in termini di specifiche tecniche e standard di produzione e un prezzo competitivo, sono elementi che confermano i prodotti Open Parts un'ottima alternativa ai ricambi originali. Open2 Garage, La soluzione è studiata su misura per poter eseguire tagliandi o altre riparazioni con ricambi di qualità, rapidamente, senza errori, per la massima soddisfazione del cliente. Open2 Garage, la sicurezza del ricambio su misura. La soluzione è che non sia per a Maca, capito衍 per farvi, Grazie a tutti